Piri piriri 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 Una persona mostruosamente intelligente, di John Fante, tratto da troppo in gamba quel ragazzo. E pensare, rifletta Jürgen, che il mondo in cui vivo è regolato da creature che non hanno nemmeno un decimo della mia intelligenza. Spesso l'ho sospettato e davvero non è una bella cosa. Vediamo se l'essere una persona così mostruosamente intelligente mi porterà di combinare qualcosa di buono. James Brent Cabell, Jürgen, A Comedy of Justice, 1919 Sabato sera. Eddie Iken ed io eravamo seduti in spiaggia a fumare sigarette. Le luci di Wilmington alle nostre spalle splendevano multicolori e indifferenti, riflettendo lo stato d'animo della gente che si affannava verso nessun luogo in particolare. Un cento metri più in là, in un padiglione all'aperto, un'orchestra jazz suonava all'impazzata Tiger Rug. La canzone mi fece venire in mente un racconto di Ben Echt, su un famoso antropologo che andava in cerca di remoti usi e costumi dei primitivi. Alla fine, dopo una vita ingrigita nella sua città d'origine, questo gran professore scopriva che la musica e il ballo erano cose altrettanto straordinarie degli antichi cerimoniali di un qualsiasi clan antividiluviano delle isole Fiji. Le ricerche di quel sapiente sfociavano così in una piena di gioia, e là per là si metteva finalmente a scrivere il libro che andava ruminando da otto anni. Raccontai la storia a Eddie. Lui rise, vagamente incuriosito, e mi disse «Carina, carina, ma non vedo il nesso. Andiamoci nel Majestic a farci qualche ballo». Io come ballerino non ero sciolto. Sempre troppo preso dal partner e troppo sensibile all'effetto che le mie contorsioni potevano avere davanti a occhi disconosciuti. «Non posso», dissi. «Domani devo trovarmi ai doc di buon'ora». «Giusto un giro a due», disse Eddie. «Sono appena le nove». «E va bene», dissi il riluttante. «Ma giusto un giro a due. Ci alzammo e scuotemmo la sabbia bianca dai nostri abiti. Eddie si toccò il maglione. Dio, siamo anche vestiti alla grande. Lui aveva una camicia bianca e una cravatta nera, una maglia bianca e pantaloni neri. Ed era molto più ben messo di me, che aveva una camicia bianca e una cravatta rosso scuro, il giaccone marrone di pelle e pantaloni marroni. «Che diavolo», dissi. «Siamo forse mannequin?» «Prego». «Quelle che fanno le sfilate di moda». Ci avviamo verso il Majestic. Dall'altra parte del porto brillavano le luci di San Pedro. Tra le luci e noi erano, alla fonda, le portaere in Lexington e Saratoga. Parevano mostruose, nere e fredde. Mi venne un'idea per un racconto. La balera era piena di gente, luci colorate si riverberavano sugli specchi e alle pareti. Strisce di carta crespata dondolavano appese alle colonne, in ghirlande arruffate. Era la solita balera, entrata libera e diecicentesimi a ballo, con la pista che veniva sgomberata al termine di ogni numero. Un recinto in vimini bianco, alto due piedi, contornava il pavimento di marmo. Marinai, cambusieri e le loro donne, operai con le moglie, turisti ricchi, tutti si davano da fare sulla pista. Salutammo un paio di amici e ci facemmo strada verso il recinto, da dove ci mettemmo a guardare i ballerini, soprattutto le donne, mentre ci si trascinavano davanti. L'orchestra stava ancora suonando Tiger Rag. Spasmodico, un tizio si guidava a gridare Tipi! Wahoo! Eddie mi fece l'occhiolino. Un californiano del Texas. Mi sentivo costretto e avevo la bocca secca. Le ballere erano posti in cui le donne facevano in modo di essere più gentili. Cercai di pensare a un aggettivo appropriato. Invece il pensiero che mi si formò mi diede un senso di inutilità degli aggettivi descrittivi e cominciai a desiderare di essermene restato a casa a far fuori le mie mille parole. Una ragazza in raso nero, dai fianchi sontuosamente floridi, ci precipitò in pista tirandosi dietro il suo partner sudato. La seguì con gli occhi, domandandomi che cosa facesse per vivere e se avesse mai letto Nice. Con fianchi simili ragionai di certo non aveva mai figliato, ma ci avrei scommesso che non era vergine. Vieni, disse Eddie, diamo un'occhiata. Molti erano gli uomini non accompagnati. A fatica ci facemmo strada tra di loro fino allo stretto passaggio che correva intorno alla pista. Camminando guardavamo la gente seduta alla nostra destra in cerca di donne sole. «Oh là là!» disse Eddie. Davanti a noi c'erano due ragazze sole, una attraente, coi capelli tra il rosso e il castano. L'altra era una racchia. Ci sorrisero in una specie di invito mentre ci avvicinavamo. Eddie mi imbruciò sul tempo con quella più carina. «Ci vediamo dopo», disse. Eddie era un tipo disinvolto e un ballerino eccellente. Io proseguì. La racchia mi osservò mentre la sorpassavo. Un dieci metri più avanti mi voltai. I nostri sguardi si scontrarono. Oddio! Ripresi a camminare, più spedito. Cercai le parole per spiegarmi perché mai mi fossi voltato. Quella sua sconvenienza aveva un certo fascino che, gioco forza, mi ha fatto indirizzare lo sguardo verso di lei. Pensai che era una frase abbastanza ben concepita, considerato il breve tempo che avevo avuto per foggiarla. Segui il passaggio fino all'altro lato, dove vidi due ragazze sedute, una bionda, l'altra mora. Erano piegate in avanti in modo che le loro teste venivano quasi a trovarsi l'una nel grembo dell'altra e parlavano senza posa. Dovevano essere sui venticinque, probabilmente sposate, pensai. Mi aggiustai il nodo della cravatta e mi avviai verso di loro. Ero fin troppo consapevole delle mie misure, della mia piccolezza, per poter essere gentile. E lo sapevo. Era soltanto un piccolo svantaggio fisiologico, tuttavia impossibile da ignorarsi. Le ragazze mi guardavano di tra le ciglia, sollevando a malapena il capo. Le loro mascelle, impegnate a masticare gomma, andavano come pistoni. Mi decisi a farmi avanti con la bionda. Mi dissi, sei uno sciocco. E parlai. Posso avere questo ballo? Era un foxtrot lento. Quelle smisero di masticare simultaneamente e si guardarono. La bionda si esaminò le unghie. Erano assai lunghe. Non ballo mai con gli estranei, disse. Poi scambiò qualche parola con la sua amica strofinandosi le unghie sui fianchi. «Va là, fatti un ballo con lui, Elsie, all'aria di un bravo ragazzo!» Elsie aggrottò le labbra, fece il broncio e scosse lentamente il capo. «Ah, ah!» disse. La cosa mi fece arrabbiare. «Come dire «no signore, vero?»» Lei mi guardò. «Sì, vuole dire proprio questo. No signore!» «Me ne andai!» «Ehi tu!» gridò la bionda quando ormai mi ero allontanato di un cinque metri. Tornai dove era seduta e ancora stava forbendosi le unghie. «Ho cambiato idea. Penso che puoi farti questo ballo con me». «Ma per chi mi aveva preso?» «È molto dolce da parte tua, dissi. E a proposito di ponzamenti, penso che tu puoi andare all'inferno». Lei si morse le labbra, mi diede un'occhiataccia e si fece di un bellissimo rosso. Io cercai di sorridere, ma era difficile. Mentre me ne andavo sentì la bionda che diceva all'amica «Non sono mai stata tanto insultata in vita mia!» e mi congratulai con me stesso per come avevo tenuto botta. Ricordai che Voltaire, Unker e George and Nathan erano maestri nell'arte del botta e risposta e mi domandai come si sarebbero comportati nell'occasione. Forse non sarebbero stati così grevi, ma di sicuro avrebbero pronunciato parole dallo stesso effetto. E allora mi diedi del lasso, ma poi per qualche tempo me ne andai in giro citando memoria a vari passi dell'American Credo di Mencken. L'orchestra attaccò una canzone tedesca assai carina, «Two hearts in three quarter time». Andai verso la pista a guardare i ballerini che qui rettavano. Sarebbe splendido, pensai, se sapessi le parole di questa canzone e visto che stavo esprimendo un desiderio avrei anche potuto andare fino in fondo e desiderare di conoscere l'intera lingua tedesca. Ragionai. Dissi a me stesso che ero una scimmia ad ammirare tutto ciò che era tedesco per l'unica ragione che gli uomini per me più importanti erano tedeschi. Mi domandai che cosa stesse dicendo la bionda. Pensai a Nice, ricordando a me stesso che non ero nemmeno sicuro di saperne pronunciare correttamente il nome, benché lo rispettassi quanto il mio. Ricordai Zarathustra, «Amare è la più dolce delle donne» e «Vai da una donna, non dimenticarti lo scudiscio». Mi chiedevo se Nice si fosse lasciato andare a parole così acide cedendo a un luogo comune. Dovevo dimenticarmi di Nice se volevo passare una serata decente. Dissi vigorosamente a me stesso che a 33 anni Nice mi avrebbe ancora influenzato. Ma, pensai, metti che Nice si presenti su questa pista e dica «Ehi tu, ragazzo, va fuori e fatti saltare le cervella. Quanto male l'avrei presa». La ragazza in raso nero mi scivolò accanto e mi scordai di lui e dalla mia mente zampillò un soliloquio sull'amore che le portavo. Sherwood Anderson, ricordavo, aveva scritto che spesso veder camminare una donna era uno spettacolo di pura bellezza. Di sicuro intendeva dire una donna in raso nero, intendeva dire qualcosa un po' al di là della bellezza, della pura qualità estetica. La ragazza e il suo partner fecero per tre volte il giro della pista. Non spostai nemmeno per un batter d'occhi il mio sguardo dai suoi fianchi. Il waltzer terminò e lei sparì nella ressa dell'ingresso. Non avevo avuto modo di darteggiarle uno sguardo prolungato. L'avessi vista ancora, magari con un soprabbito, non l'avrei riconosciuta. Inoltre, pensai, secondo la religione in cui ero stato battezzato avevo commesso un peccato mortale e ormai avevo staccato un biglietto per l'inferno. Maledissi tutti i preti. Come la pista si svuotò, grandi strisce di luce azzurra e dorata si accesero per tutta la balera. L'orchestra attaccò un waltzer sentimentale, un vecchio cavallo di battaglia, beautiful Ohio. Andai in cerca di un posto libero dove mettermi ad ascoltare la musica in completo relax, in modo da apprezzarne ogni nota. Non lontano ne scorsi uno sul quale era drappeggiato un soprabbito da donna. È suo? Domandai alla signora del posto accanto. Sì. Potrebbe toglierlo, per favore? Vorrei sedermi. Beh, penso di sì. Era grassa. La mia richiesta la infastidì e potei godermi la sua irritazione. Mi misi comodo sperando che quella donna si irritasse ancora più, ma lei si limitò a voltare la propria ampia schiena davanti ai miei occhi e tutto ciò che potevo vederne non era che la nuca piazzata su quel collo pesante. Posai il capo sullo schienale della poltrona e guardai il soffitto mentre onde di una canzone mi venivano incontro attraverso la sala. Pensai, Suor Mary Ethelbert amava questa canzone. La suonava all'organo quando era in quarta elementare. Adesso lei sta in un convento nel Wyoming. Prega per me ogni sera. Questa canzone me la fa sempre tornare in mente. Proprio in questo momento magari sta pregando per me. E Dio, che paradosso! Ogni volta che penso a lei penso di andarci a letto. Che cosa diceva Jürgen? Ora la storia dice no, non quella. Oh sì, non esiste memoria meno soddisfacente di quella di una qualche tentazione alla quale abbiamo saputo resistere. E invece questi pensieri riferiti a Suor Mary Ethelbert sono piuttosto morbosi. Lei poi prega per me. E giusto adesso anche mia madre a casa sta pregando per me. E così padre Benson a St. Louis e così Paul Reinhardt e Dan Campbell. Ma perché devono essere preti? Se vedessero i libri di E. Boyd Barrett li brucierebbero senza nemmeno leggerli. Dovrei essere a casa a leggere e a scrivere. Mi toccherà star su fino a tardi stanotte se voglio scrivere un settecento parole. Devo scrivere, scrivere, scrivere. Dovrei andare a letto presto e domani le navi dell'acciaio. Lo odio quel dannato acciaio. Mi taglia le mani, me le fa fette. Che diavolo! Dovrei ritenermi fortunato perché ho un lavoro. Fortunato? Ma che diavolo! I concetti di bene e di male sono soltanto funzionali a un fine. Sono espedienti per acquisire potere. Ci vuole molto coraggio per fare quello che dice Nietzsche. Ma per Dio ha ragione e io farò così. Suor Mellie Etelbert era carina. Pensava che mi sarei fatto prete e così mia madre. Nudo e solo vorrei vederle perché la sola bellezza insegnerebbe il pentimento. E questo che vuol dire? Non lo so. Come quel ragazzo in Sherwood Anderson che diceva non so perché ma voglio sapere perché. Anderson scrive come un vecchio contadino pieno di muscoli. Cabel scrive versi pieni di grazia. Oh Cabel. Oh Jürgen. Jürgen. Una persona mostruosamente intelligente. Giusto. Perché questo è quello che dice la storia. Ah Jürgen. Sono giovane una volta sola. Insomma perché diavolo Nietzsche ha inseguito per tutta l'Europa quella Salomé? E perché no? Anche lui è stato giovane una volta sola. Potrei ancora essere un prete. Mi chiedo se dal letto di morte invocherò un prete. Un codardo io? No. Io sono una persona mostruosamente intelligente. Dovrei essere a casa invece di starmene seduto qui ad ascoltare questa canzone. Devo scrivere scrivere e scrivere. La canzone è carina. A suo Rettelbert piaceva. La canzone finì. E io mi tirai su sulla poltrona. Alla mia destra c'era una ragazza che fino a quel momento non avevo notato. Aveva le gambe rivestite di calze sinuose color polvere da sparo e modellate in una curva seducente ma i ginocchi erano sudi e cadaverici. Aveva una veste di un feltro scuro con una camicetta bianca e sopra una giacca scura. Aveva grandi denti assai brillanti ma non abbastanza piccoli da poter essere nascosti dalle labbra. i capelli erano del colore del fil di rame cui si è stato tirato via l'isolante. Una collana di topazze di imitazione le pendeva dal collo graziosamente intonata ai capelli e ai suoi occhi castani. Alzandomi michinai leggermente verso di lei. Cercai di apparire amabile. Vuol fare questo ballo con me? Perché no? disse. È forte questo pezzo. La canzone era un foxtrot lento. Soltanto un minuto dissi. Lei era già in piedi quando tornai dalla biglietteria. I suoi occhi erano a livello della mia fronte. Varcammo il cancelletto. Io diedi un biglietto all'omino e cominciamo a scendere verso la pista. Aveva gambe robuste vigorose che seguirono ordinatamente i miei passi impazzati. Le mie ditta sui suoi fianchi si muovevano come tasti di un piano automatico seguendo il tendersi e rilassarsi dei suoi muscoli. Cipria e rossetto emanavano un profumo sensuale. Io lo assaporavo avvidamente. Ti ho per caso già incontrato? Magari a Stanford? Era una studentessa. Non le volevo dire che ero uno scaricatore di porto. Speravo che non si accorgesse dei calli sulle mie mani e rilassai le ditta di quella sinistra. Senz'altro, menti, già che l'erudizione viene versata in me da quella gloriosa istituzione. Rise. Balli proprio come uno di Stanford. È un complimento? Davvero? Sei un dannato bugiardo, pensai. Ebbene sì, noi figli di Leland siamo proprio ben messi con gli arti inferiori. Parli proprio come un prof. Vero? Del resto è questa la mia dignità a Stanford. Lo dissi in un tono ovviamente scherzoso. Ma dai, sei così terribilmente giovane. Mio Dio, mi crede? Sono proprio una persona mostruosamente intelligente. o meglio, lei è una tipa mostruosamente stupida. Mi sono laureato l'anno scorso, questo è il mio primo anno di insegnamento. Che cosa insegni? Comunismo. Ero sicuro di saperne più di lei sul comunismo. Oh, cattivone, il comunismo è contrario alla legge. Quale legge? ribattei stupefatto. Mai sentito parlare della carta dei diritti del cittadino? Beh, sai, disse lei timida, ho sempre pensato che fosse contrario alla legge. assurdo, incredibile. Penserai che sono un'asina completa. Era sulla difensiva. Mi pareva di vederlo, Jürgen, che mi sorrideva. Ma no, non è un errore grave. Poi dolcemente. Però sai una cosa, bambina, Geova non ne ha fatti di sbagli quando ha creato te, non credi? Ballammo cinque canzoni di seguito e quando lasciamo la pista lei mi chiamava professore. Le avevo detto che mi chiamavo professor Cabel. Bevemmo latte con malto seduti in un angolo buio della sala, quasi dietro il podio dell'orchestra. Si chiamava Nina Gregg e frequentava un college del posto. Presto però mi stancai della sua stupidità perché non c'era nessuno a cui potessi dimostrarla. La baciai molte, molte volte. Bacciarla era un gran divertimento. Aveva labbra come soffici masse rosse, dolci e appiccicaticce che derivano alle mie come ogni bacio dovrebbe. Muoveva il corpo senza farci troppo caso piuttosto volentieri e questo mi piaceva assai perché non avevo mai baciato una ragazza del college e avevo avuto modo di sogghignare al leggendario ardore delle studentesse descritto nei libri. Trovai la realtà ancora più deliziosa e sorprendente. Mentre le nostre labbra si aprivano le sue braccia mi erano intorno al collo e le sue dita mi si insinuavano lungo la pelle della schiena. Dopo una mezz'ora così le chiesi di venire in spiaggia con me ma lei rifiutò recisamente come un lapidario mai! Io me la presi un sacco e quasi dimenticavo che ero un professore. Poi provai a implorarla no non voglio uscire da questa sala ma perché no? Discutere con lei non avrebbe portato ad alcun risultato mi aveva eccitato tal punto che mi battevano le tempie. Riccadi all'indietro e chiusi gli occhi provando a pensare a qualche argomento più efficace. Anche lei si rilassò poggiando la testa sullo schienale. Le guardai le cosce una giarrettiera rossa faceva capolino sotto l'orlo del vestito. Senza che se ne accorgesse allungai una mano presi l'elastico con le dita lo tesi e poi lo lasciai andare. La giarrettiera con uno scatto tornò al suo posto pizzicandola. Stupefatta lei mi afferrò la mano ed esclamò Ehi professore! Dieci milioni di scuse dovresti vergognarti disse e tu non avresti dovuto mostrare le cosce era solo un avviso. Lei teneva ancora la mia mano o per meglio dire il palmo della sua mano si trovava nella mia. Le punte delle sue dita si muovevano leggere sui calli e un tratto la sua mano si chiuse come arretrando davanti a qualcosa di disgustoso. Quella mattina prima del lavoro mi ero aperto le vesciche e ci avevo applicato la tintura di iodio per proteggere dall'infezione la pelle più profonda. non potevo lavorare coi guanti gli orli della ferita erano aguzzi e frastagliati pareva la zappa di un animale tanto che se strofinavo la mano sull'avambraccio ci lasciavo certi freghi bianchi. La ragazza aprì la mano tenendola sulle ginocchia cielo disse che mani orribili che cosa mai gli hai fatto? Le macchie di tintura di iodio sembravano sangue rappreso non mi riuscì di improvvisare una scusa oh non è niente dissi di certo è qualcosa balzo in piedi e si batte le mani sui fianchi di la verità mi hai mentito era molto arrabbiata le vene del collo le si erano ingrossate mentito non mi ero alzato tu non sei un professore tu non sei altro che uno spalafossi un camionista o chissà cosa beh e se così fosse? se così fosse? guardati le mani guarda quel tuo vecchio giaccone tu non sei un professore sei un bugiardo ecco quello che sei uno sporco bugiardo ormai stava quasi gridando e aveva le lacrime agli occhi io rimasi a bocca chiusa ma se fossimo stati soli di sicuro l'avrei strapazzata osservai con un'aria scema le mie mani rovinate e cercai di sorridere molta gente ci stava guardando vidi una vecchia con gli occhiali che sorrideva cosa ti ghigni pensai arcaico mucchio d'ossa poi provai a confezionare delle parole che confermassero il mio diritto di cittadinanza letteraria ma mi vennero in mente soltanto bestemmie e un pugno sul muso di quella ragazza pensai che era una buona idea per un racconto nel quale un uomo uccide una donna e mi chiesi se il blocchetto degli appunti fosse nei paraggi in modo da prenderne nota pensai che se avessi mai voluto avere un ricordo compiaciuto di quell'incidente avrei perlomeno dovuto alzarmi e schiaffeggiarla e invece dissi mi dispiace mi dispiace davvero oh sei sei uno sporco bugiardo dio pensai è l'unica invettiva che conosce la sua mano destra si staccò dal fianco e col dorso si abbatte contro il mio viso me ne derivò un leggero bruciore e un po' di solletico balzai in piedi avrei voluto buttarla a terra invece mentalmente scribacchiai la sua mano lo colpì ed egli avvertì una sofferenza pungente sotto gli occhi e si prostrò i suoi piedi mormorando maledizioni tornai a sedermi lanciando sguardi ostili al pubblico pieno di stupore la ragazza era scomparsa nella folla di colpo pensai a Nietzsche e a Cabel e a Nathan e a Lewis e ad Anderson e a molti altri ancora dio maledica Nietzsche dio maledica il grande Menken dio maledica Cabel dio maledica l'intera maledetta squadra avrei dovuto fare a pezzi quella virago che hanno di sbagliato le mie mani dio maledica mio padre dio maledica mia madre dio maledica me stesso perché non glielo suonate perché non le ho dato un pugno da farla rotolar via siate duri oh Nietzsche vattene d'accordo per l'amor di dio lasciami da solo per un minuto i concetti di bene e di male sono soltanto dei mezzi per un fine tutto è bene ciò che procede dalla forza dal potere dalla salute dalla felicità e dalla terribilità che cosa intende per terribilità non l'orrore no vuol dire pienezza di timore avrei dovuto ucciderla Jürgen è davvero una persona mostruosamente intelligente almeno pensavo che ero un professore avrei dovuto chiamarla vigliacca o almeno ignorante la definizione che Everett Dean Martin dà di un uomo educato è proprio bella l'eguaglianza sessuale dovrebbe continuare ma che diavolo potevo farci Nietzsche dice che al fondo i sessi sono antagonistici vorrei averla tra le mani per un paio di minuti dovrei essere a casa devo scrivere 700 parole e leggere 50 pagine andai al bar all'ingresso della sala e ordinai una tazza di caffè e poi un'altra ancora la cameriera era vicino a me mentre mettevo i miei soliti tre cucchiaini di zucchero nella tazza la prossima volta disse ti verserò il caffè direttamente nella zuccheriera sarà un risparmio di energia la tua conoscenza della fisica è abominevole dissi non lo sai che è impossibile che l'energia vada perduta sei uno tosto tu eh sono una persona mostruosamente intelligente baci uno lo ribaci e poi solo perché ha le mani callose ti metti a insultarlo siccome lavora duro secondo te è un manigoldo questa è proprio giusta per The American Credo la vigliacca è lei quella cristiana che se ne torni dalle monache sua Rettelbert è in un convento del Wyoming e prega per me Paul Reinhardt e Dan Campbell sono in un noviziato a St. Louis gesuitismo dannata religione devo corroborare la mia irreligiosità dovrebbero legiferare contro la religione William J. Bryan era un furfante e che libri di schifo che ha scritto devo andare a casa a scrivere avrei dovuto ucciderla cosa diceva Jürgen non è che aveva un caso simile non saprò mai scrivere come Cabel saggio timido dolce scrittore mia madre in piedi che mi aspetta che diavolo non posso preoccuparmi io dei casi miei un giorno io faccio saltare questo mito che circonda le donne forse come gentiluomo avrei dovuto portarla a passeggiare con me forse come gentiluomo avrei potuto farla sedere sulla sabbia fresca ah eccomi qua che ragiono come Jürgen meraviglioso devo andare a casa a scrivere mi girai e vidi Eddie aveva l'occhio liquido quel brillio nello sguardo apparteneva a qualcuno che stava passando una gran bella serata per l'amor di Dio disse Eddie dove sei stato ti ho cercato dappertutto oh un po' qua un po' là sono andato dovunque siamo pronti andiamo a casa a casa ma certo che no ho trovato qualcosa qualcosa di magnifico ne ho abbastanza di megere che sono le megere donne oh senti non è che ti va di parlare invece di essere un libro mi sono trovato molto vicino a cogliere un grande successo dissi si gli dissi del mio interludio professorale sei un fesso io una madammina come quella la rovinavo era impaziente vieni diamoci una mossa paga il caffè dove posti ragazzo posti no devo andarmene a casa domani è una brutta giornata tutto quello che vuoi fare è ficcare il naso nei libri non ti fa per niente bene lo dici tu senti sono ragazze coi fiocchi sorrise tracciando con le mani la forma di una donna buttai lì una domanda facili facili biascicò facendo schioccare le dita sono giù in macchina avevo pensato che magari stavi aspettandomi là ti ho cercato dappertutto andiamo decisi che avrei scritto soltanto 300 parole quanto alla lettura per quella sera potevo rinviarla uscimo dalla sala da ballo una è bionda e l'altra è mora disse Eddie tu ti pigli la mora è guardabile aspetta la macchina di Eddie era un isolato più avanti era una ford decappottabile con le ruote gialle le teste delle ragazze erano visibili attraverso il piccolo finestrino posteriore Eddie mise un piede sul predellino bene Elsie disse qui c'è il tuo cavaliere la bionda cacciò fuori il capo e mi esaminò grande fu il nostro vicendevole stupore poiché si trattava della stessa ragazza che proprio quella sera aveva pensato che forse potevo ballare con lei la sua compagna era Elsie la stessa che era con lei in quell'occasione oh disse sei tu giusto stavo ridendo oh disse Elsie le conosci chiese Eddie intimamente in verità l'ho consegnata al fuoco della perdizione non più tardi di un'ora fa oh per favore il libro può farmi la cortesia di parlare magari usando la lingua degli Stati Uniti che anche tu possa soffrire le pene eterne dell'inferno disse l'amora Elsie distolse lo sguardo con affettazione ma che ha fatto chiese Eddie mi ha insultato disse la bionda anche a me disse Elsie Gesù disse Eddie sei proprio un drago pensi di saperla lunga e hai mandato a rotoli una festa da dio io con lui non ci vengo disse Elsie io nemmeno disse la bionda si chiamava Sarah per due minuti non parlò nessuno io mi guardavo le scarpe Sarah mi traguardava dal finestrino col mento prognato in una posa severa Elsie guardava ancora fuori dall'altra parte Eddie disegnava col dito sulla portiera beh disse mettiamoci una pietra sopra no direi di no e se lui si scusa esclamò Eddie come se stesse suggerendo qualcosa di assai brillante se si scusa va bene di scuse non ce n'era davvero bisogno le ragazze sarebbero venute con noi perché erano ansiose di divertirsi un poco si guardarono e sorrisero Elsie disse però deve essere davvero pentito davvero scusati disse Eddie Elsie disse io sono prostrato da una così grande pena che ti bacerei i piedi se tu soltanto trovassi sincera la mia mestizia lei applaudì è stato dolce vero Sarah grande gente è così che si fa vorrei comunicarvi che io sono una persona mostruosamente intelligente Eddie sputò e io vorrei comunicarti che di sicuro sei innamorato di te stesso disse sei perdonato disse Elsie puoi venire con me adesso certo disse Sarah sei perdonato Elsie salto giù dal sedile anteriore e salì dietro sul ribaltabile nel fare questo movimento mi fece capire che non portava calze che indossava biancheria color turchino io presi posto dopo di lei aspetta un po' disse la bionda non dimentichi qualcosa la mia percezione è capace di cogliere anche il dettaglio più piccolo disse guardando le gambe di Elsie dai parla statunitense disse Eddie che cosa ha dimenticato chiese Elsie aveva detto che ci baciava i piedi disse Sarah ghignando che il diavolo mi porti se non lo faccio l'hai detto tu disse Elsie vai avanti disse Eddie forza andiamocene prima che faccia giorno proclamai il mio massimo piacere a quella idea per quanto si trattasse di un piacere fittizio e le baciai i piedi mi arrampicai al suo fianco il motore tossicchiò e si partì era una bella notte la luna era gialla il fiato di Elsie era putrido sapeva di vino e di aglio frugai in tasca in cerca di un pacchetto di gomme vuoi? oh non mastico mai gomme prima quando l'avevo vista per la prima volta ne aveva la bocca piena dovresti è un buon esercizio in questi tempi di prosperità uveriana e di cibi leggeri vabbè ne prendo una se vuoi dopo un po' le mostrai i calli alle mani lei mi stampò un bacio su ciascuna delle palme e io maledissi la ragazza del college ma avrei preferito che lei e non Elsie fosse con me nel ribaltabile posteriore mio fratello le ha peggio delle tue disse questi calli sono inequivocabilmente i peggiori di tutto il mondo sfido qualsiasi paragone anche con tuo fratello wow ma tu sei un tipo mostruosamente intelligente vuoi dire una persona mostruosamente intelligente Elsie e Sara non bevevano mai giurarono e noi non fummo sorpresi di quei giuramenti così Eddie diresse la macchina verso una sezione buia del porto dove mettemmo insieme i soldi e ci compramo una cassetta di birra il contrabbandiere ci diede altre quattro bottiglie gratis decidemmo di non scolarci la birra prima di mezzanotte ma quando Sara e Elsie insistettero che non avevano fame ciascuno di noi consumò una bottiglia e poi andammo in un ristorante dove mangiammo una cena deliziosa mai avevo veduto delle buon gustai paragonabili a Sara e Elsie quando uscimo dal ristorante era quasi mezzanotte Elsie e Sara ci proposero di portarle a casa non erano contenti di star fuori fino a tardi dopo quegli omicidi di San Diego e non si poteva mai sapere chi ti capitava di incontrare Eddie e io scoppiamo a ridere poi Eddie ci portò in un albergo dove prendemmo una suite il portiere di notte ci permise di portare la birra passando dalla sala così gli demmo un dollaro di mance e un paio di bottiglie alle 5 in punto la macchina montò sul marciapiede davanti a casa mia e io saltai fuori guidava la bionda Eddie dormiva al suo fianco anche Elsie dormiva sul ribaltabile per un'ora avevamo girato nei paraggi della spiaggia all'infruttuosa ricerca della ragazza che mi aveva schiaffeggiato alla sala da ballo e non avevamo incontrato nessuno men che meno una ragazza tignosa era stata Elsie indignatissima a proporre che la cercassimo dopo il racconto di quell'incidente per quanto poi tutta in lacrime com'era si fosse addormentata quella corsa nell'aria del mattino che ora si imbiancava di nebbia mi aveva ridato la sobrietà era troppo tardi per andare a letto e troppo presto per mettersi a lavorare e comunque non ero stanco decisi che avrei iscritto fino al mattino sapevo che mia madre stava aspettandomi con l'ira che le montava dentro e voleva potersi sfogare aprì la porta senza far rumore ma mia madre seduta sotto la lampada si alzò come per istinto nella stessa stanza mio fratello dormiva nel divano letto insieme condividevamo il letto bene sei venuto finalmente razza di vagabondo disse mia madre chiusi la porta hai bevuto lo sento fin qui l'odore di quella robaccia mi sedetti sul letto ho speso 3000 dollari per darti una buona educazione cattolica e invece guardati vergogna vergogna cominciai a slacciarmi una scarpa innalza il tuo cuore a dio e renditi conto di quello che stai facendo la scarpa ricadde con un tonfo leggero peccato mortale dopo peccato mortale di sicuro sarai andato in giro con qualche ragazza poco per bene a beccarti le malattie oh dio perdonalo perdona mio figlio i calzini erano fradici di sudore perché nice disprezzava così tanto la birra certo quell'uomo aveva una volontà di ferro l'ascettismo non produceva nulla di buono ma data la natura di mere convinzioni dei concetti di bene e di male suppongo che si trattasse di un privilegio e solo il buon dio sa se ho sgobbato per sconservare nel bene questo ragazzo mi sarebbe piaciuto conoscere qualcuno capace di interpretarmi nice in termini pratici perché non sei un bravo ragazzo come Paul Reinhardt lui studia per diventare prete nel suo cuore c'è dio lui non ha mai fatto quello che vai facendo tu mica si ubriaca e nemmeno legge libri contrari a dio supponiamo però che ciascun uomo accettasse le parole di nice e vi si conformasse beh allora suppongo che uomini come me ben presto arriverebbero a degli estremi come Emerson a Emerson di sicuro piace esibire il proprio vocabolario ti dà le vertigini a forza di farti sfogliare il dizionario vediamo la sua definizione di anima è il pervasivo spirito dell'universo cavolo è una cosa che ti dà una quantità di informazioni una specie di formula magica però sacra quale il padre tale il figlio sei peggio di tuo padre oh perché me lo sono sposato perché dio non mi ha fulminato mentre stavo all'altare se soltanto avessi il tempo di leggere tutto Emerson però senza dubbio sarebbe un eccellente esercizio lessicale non sei che uno sporco animale che se ne frega di dio e degli uomini oh sono stanca di questa vita potrei comprare tutto Emerson in edizione economica se stasera avessi risparmiato i miei soldi avrei potuto comprarmi sette libri ma grazie a dio sono un poveraccio che lavora altrimenti non toccherai mai un libro dio onnipotente vergine benedetta san giuseppe portatemi via da questo mondo di sofferenze mio fratello si voltò e borbottò per grazie di dio andatevene a letto non posso dormire con tutto questo casino a meno che non mi stia sbagliando in modo deplorevole dissi non mi pare di aver proferito verbo domani avrei tutto il tempo di dirgli il fatto suo a mamma disse lui e io qui a lavorare come una serva e tu che fai leggi libri contro dio non è che per caso in quei libri cattivi insegnano cos'è l'obbedienza ahi noi sto fatendo gli stessi tormenti che provò Jürgen dopo che Koshkei si portò via sua moglie non è che per caso quei libri cattivi dicono che si deve andare in chiesa che si deve voler bene alla mamma cane che non sei altro tu non vuoi bene a tua madre tu vorresti vederla morta ma si che ti voglio bene mamma bene bene è così che mi vuoi bene standotene in giro con quelle donne sporche e impure lo so che sei stato con loro lo vedo tu non mi fai scema devo pur concedermi qualche piacere 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 un peccato mortale me lo chiami piacere oh ragazzo mio povero ragazzo mio è questo che ti insegnano i libri e allora dimmi l'hai mai visto in giro con qualche donnaccia Paul Reinhardt dio maledica Paul Reinhardt e tutti i dannati preti del mondo ti stai rovinando hai l'anima nera nera come il carbone decisi di non mettere il pigiama cominciavo a stancarmi decisi di non scrivere mi guardai le mani pentendomi di non aver abbattuto quella ragazza mi sarebbe piaciuto poter andare a scuola come lei rivedevo la ragazza vestita di raso nero che correva per la sala da ballo avrei letto un passo dalla Zaratustra e ci avrei riflettuto sopra prima di addormentarmi domani distruggerò tutti i tuoi sporchi libri gridò mia madre e poi li brucio tutti quanti tu fallo e quanto è vero Dio me ne vado di casa andatevene a letto urlo a mio fratello sì per favore aggiunse mia sorella dall'altra camera andai alla mia scrivania e presi lo Zaratustra lo aprii a caso e lessi chiamarono Dio ciò che si opponeva a loro e li affliggeva e in verità c'era un grande spirito eroico in quella venerazione baciai mia madre e mi infilai a letto lei se ne andò in camera sua udì lo schiocco delle sue articolazioni mentre si inginocchiava e poi il rumore dei grani del rosario grazie a tutti grazie a tutti